...ciclo di webinar, progettare e realizzare il sito web di un comune. È una serie di eventi organizzati da Agit e Formats PIA in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale nell'ambito del progetto Informazione e Formazione per la Transizione Digitale da Italia Login e nello specifico della linea 1, Gestione per la Trasformazione Digitale. Vedo che vi state collegando in tanti velocemente. Nel frattempo, mentre gli ultimi cominciano a collegarsi, vi ricordo un po' di annotazioni tecniche. Per quanto riguarda l'attestato, così come per tutti i cicli di webinar, mi verrà inviato via mail solo al termine dell'intero ciclo e solo a chi avrà partecipato ad almeno tre dei quattro webinar previsti. L'indirizzo a cui l'attestato verrà inviato è quello che avete rilasciato quando vi siete iscritti su Eventi PIA. Veniamo immediatamente al programma di oggi. L'evento di oggi ha per titolo il modello di siti web dei comuni italiani e il tema dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali. Quindi parleremo del modello previsto e predisposto da Designers Italia, che è disponibile per tutti i comuni che vogliono andare incontro ai bisogni dei cittadini, rendendo il proprio sito più semplice, più efficace, più funzionale e accessibile a tutti i cittadini. In questo incontro interverranno Maria Cristina Caratozzolo del Dipartimento per la Transizione Digitale, che ci illustrerà proprio questo modello creato da Designers Italia, e Fabrizio Caccavello di Agid, che approfondirà il tema dell'accessibilità dal modello all'implementazione. Al termine di ciascun intervento, come nostro solito, dedicheremo un po' di tempo all'esposta alle vostre domande, che vi prego fin da ora di porre in chat, in modo che noi possiamo raccoglierle e sottoporle ai relatori di oggi al termine di ciascun intervento. Vi ricordo che intorno alle 15.30, quindi al termine delle risposte, delle domande poste alla prima relatrice, e prima dell'intervento del secondo relatore, avremo la nostra consueta pausa caffè di circa 10 minuti. Considerando il grande interesse che il tema di oggi suscita in tutti noi e per lasciare grande spazio alle comunicazioni dei relatori, do immediatamente la parola a Stelio Pagnotta di Agid, che prego di collegarsi, che ci introdurrà all'incontro di oggi mediante un link con l'incontro precedente, a beneficio anche di chi ha iniziato a seguirci solo oggi, perché come sapete alle 13.00 di oggi scadeva la possibilità di iscriversi a questo ciclo. Mi sembra di avervi detto tutto, se c'è qualcosa che non vi ho detto ve lo scriverò in chat. Allora do la parola a Stelio. Buongiorno, come ha anticipato Teresa, siamo al secondo di quattro incontri, che sono dedicati al tema della progettazione e realizzazione dei siti web, con particolare riferimento ai siti web del comune. Come ha detto Teresa, nell'ambito del primo incontro è stata fatta una breve introduzione di contesto, quindi con Claudio Celeghin di Agid, si è andati a vedere qual è il contesto in cui si inseriscono le linee guida di design che saranno adottate senza dell'articolo 71 del CAD. Abbiamo visto quali sono i principali contenuti, quali sono i principi e come queste linee guida si legano poi all'interno di quello che è l'ecosistema del progetto Designers Italia, che prevede per l'appunto, oltre alle linee guida, una serie di kit e di strumenti e di strumenti pratici. Proprio la prossima relatrice, Maria Cristina Tratozzolo, aveva anticipato e introdotto quelli che sono gli elementi che costituiscono Designers Italia e i principali strumenti a disposizione delle amministrazioni. Quindi, all'interno di questo percorso, oggi proseguiremo e continueremo ad approfondire il tema. In maniera particolare, oggi, sempre con Maria Cristina Tratozzolo, andremo a vedere nel dettaglio quelli che sono gli elementi che compongono il modello dei siti web per i comuni, andando anche ad analizzare alcuni casi d'uso, esempi concreti. Nella seconda parte del webinar, invece, con Fabrizio Caccavello di Agid, ci sarà un focus specifico sull'accessibilità. Ovviamente, parliamo di accessibilità web, quindi andremo a cercare di capire cosa devono fare le amministrazioni, sin dalla fase di progettazione, per garantire l'accessibilità di un sito web. Quindi, come detto, siamo al secondo dei quattro webinar. I materiali del primo webinar sono disponibili sul portale Eventi.pia, sia quelli utilizzati dai relatori che il video dell'intero webinar, per chi volesse rivederlo. Quindi, diciamo che a margine di questa breve introduzione, do la parola alla prima relatrice, a Maria Cristina, del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, e vi auguro buon webinar. Eccoci, buonasera a tutti. Grazie, dovreste vedere correttamente la copertina del mio intervento. Grazie, grazie per la parola. Come detto, nel mio intervento di oggi, introdurremo il modello dei siti web per i comuni italiani proposto, realizzato da Designers Italia. Nel dettaglio, innanzitutto, vedremo in che cosa consiste, cos'è il modello comuni, a cosa serve, e racconterò quello che è stato il progetto dietro alla creazione di questo modello, tutto il percorso che ha consentito di costruire il modello stesso. Infine, vedremo qualche caso applicativo. Vedo che la presentazione si sta muovendo, non so che è successo, scusate. Dicevo, vedremo qualche caso applicativo, quindi qualche caso di applicazione da parte di alcuni comuni italiani, e anche quindi di evoluzione, declinazione del modello stesso. Dicevo, intanto, vediamo in che cosa consiste il modello comuni proposto da Designers Italia. Per farlo, per capire qual è lo scopo, l'aspirazione, l'obiettivo che questo modello, che la creazione di questo modello si pone, faccio un velocissimo passo indietro al concetto di transizione digitale. Sappiamo che, appunto, questa accelerazione, questo processo di transizione digitale da parte della PIA è un processo ormai urgente, non più rimandabile. Abbiamo anche, nello scorso incontro, però, discusso sul fatto che, chiaramente, questa transizione non consiste semplicemente in un passaggio tecnologico che riguarda gli strumenti, le interfacce, quindi i cosiddetti touch point. Non si limita ad una digitalizzazione o ad una digitizzazione, ma è un percorso che passa attraverso una trasformazione culturale che prevede di incidere sui modelli organizzativi, sui processi che stanno alla base della gestione appunto delle risorse, ma anche appunto delle modalità attraverso le quali la pubblica amministrazione offre i suoi servizi attraverso il digitale ai cittadini. In questa ottica, Designers Italia si pone quindi l'obiettivo di fornire un supporto all'EPA per consentirgli, da una parte, di progettare ed offrire quindi servizi digitali che siano realmente centrati sugli utenti finali, ovvero sui cittadini, sui bisogni dei cittadini, e lo fa fornendo strumenti che consentano delle attività di progettazione che coinvolgano i cittadini stessi nel processo di progettazione, quindi fornendo strumenti di progettazione partecipata di co-design, come abbiamo visto, e dall'altra parte però il concetto di centralità dell'utente, se naturalmente in generale è applicato al cittadino come utente ultimo dei servizi della pubblica amministrazione, deve essere riapplicato in maniera scalare alla PIA stessa, alla pubblica amministrazione stessa, cioè Designers Italia si pone come obiettivo anche quello però di fornire strumenti alla PIA che siano efficaci per realizzare e offrire servizi digitali usabili, accessibili, centrati sull'utente cittadino, partendo dai limiti e dalle esigenze della PIA stessa e quindi coinvolgendo in ultima analisi anche gli operatori rappresentanti, i funzionari della PIA nel processo di progettazione, quindi permettendogli di dare un contributo e tenendo presenti appunto i requisiti, le caratteristiche che ciascuna PIA ha nel mondo reale, quindi come esigenze, come anche limiti alla possibilità di approccio a progetti nell'ambito del digitale. Ciò detto appunto i modelli e dico i modelli perché i modelli offerti da Designers Italia sono due, modello di siti web per i comuni italiani che vedremo nel dettaglio oggi, ma esiste anche un modello pensato per le scuole, un modello appunto di sito web pensato appositamente per le scuole. I modelli, dicevo, rispondono a questa vocazione di Designers Italia di fornire all'EPA, in particolare all'EPA locali, degli strumenti già pronti che gli permettano di realizzare degli strumenti per offrire servizi digitali ai cittadini facendo fronte allo storico pervasivo problema della scarsità di risorse umane e finanziarie che molto spesso le PIA locali si trovano a dover fronteggiare. Quindi è chiaro che esiste una grossa differenza tra il dover approcciare da zero un progetto digitale anche appunto relativamente ad un sito web e invece poter partire da una base già strutturata e soprattutto consolidata dal punto di vista della progettazione, della garanzia di usabilità e di rispetto dei vincoli di accessibilità. Il progetto per la realizzazione del modello di siti web per i comuni italiani è partito nel 2018 proprio con questo obiettivo e in particolare dicevo approfondiamo il caso del modello dei siti per i comuni perché i comuni sono stati innanzitutto tra le primissime realtà ad avvicinarsi all'approccio di design proposto dalle linee guida ma anche perché i comuni sono in effetti il primo punto potremmo dire di frontiera della pubblica amministrazione presso il cittadino sono il punto di contatto appunto più vicino per i cittadini dello Stato della pubblica amministrazione in generale i cittadini si avvicinano a un comune e quindi al suo sito web per esigenze molto diverse molto variegate esigenze di tipo familiare ma anche lavorativo amministrativo esigenze di base o esigenze anche legate per esempio al tempo libero di fatto il sito web di un comune ha come utenti possibili non solo i cittadini residenti in quel comune ma anche per esempio turisti o chi lavora o vuole lavorare in quel comune per cui è chiaro che questi siti costituiscono rappresentano delle strutture molto complesse che mettono insieme grandi quantità di informazioni molto eterogenee tra di loro e soprattutto sono il punto d'ingresso per una serie di servizi sempre più numerosa e sempre più anche in questo caso variegata al suo interno alla quale i cittadini possono accedere direttamente attraverso un accesso con identità digitale e quindi fare direttamente richiesta di servizi da questo punto di accesso detto questo appunto i comuni fronteggiano come anticipavo un problema abbastanza diffuso storico di scarsità di risorse sia umane che finanziarie che in molti casi può pregiudicare la possibilità di dare vita a progetti digitali per la costruzione di un sito web quindi di un portale anche che in grado di offrire servizi e in altri casi possono pregiudicarne per esempio la qualità ovvero il tempo e le risorse che possono essere dedicate a questi progetti dicevo che i comuni sono stati tra i primi ad avvicinarsi per esempio alle linee guida ma anche alle risorse messe a disposizione in termini per esempio di librerie di componenti messe a disposizione da Designers Italia ed è da questo diciamo da questo approccio che nel 2018 è partito sono partiti i lavori per la costruzione di questo di questo modello gli obiettivi del modello sono erano e sono quello di fornire come dicevo uno strumento già pronto ai comuni che possono quindi partire da una struttura che poi tra un attimo vedremo già complessa già progettata e consolidata di sito web che potrà essere diciamo personalizzata secondo lo stile secondo le esigenze in termini anche di contenuti e di servizi del proprio comune ma dall'altra parte potranno quindi ridurre sensibilmente lo sforzo in termini economici di tempo e di lavoro da investire nella progettazione si tratta quindi di una serie di template di fatto anche molto completi dettagliati di pagine già pronte già validate in un processo di progettazione che tra un attimo vedremo ha coinvolto gli utenti anche in sessioni di validazione che appunto consentono come noi ripetiamo sempre di non reinventare la ruota di non ripartire sempre da zero ma di utilizzare appunto degli strumenti già in uso e già consolidati caratteristica importante fondamentale del modello è quella di proporre uno standard uno standard inteso come riferimento come modello appunto che permette la diffusione di buone pratiche quindi essendo stato progettato seguendo un metodo di progettazione che segue le linee guida che tiene presente la centralità dell'utente i canoni di accessibilità è quindi un riferimento senz'altro solido pronto all'uso dicevo perché può essere immediatamente utilizzato e popolato diciamo così dei propri contenuti delle proprie particolarità è svincolato dalle scelte tecnologiche infatti l'uso del modello dei template previsti dal modello non condiziona ed è indipendente a sua volta dalle scelte tecnologiche che il comune farà per esempio la scelta di un CMS ma contemporaneamente è comunque propone degli standard aggiornati anche dal punto di vista tecnologico e degli standard di servizio che permette di offrire attraverso il sito il portale definito dal modello è progettato in modalità mobile first lo vedremo tra un attimo per cui è utilizzabile garantisce livelli di usabilità da diversi tipi di device di strumento integra le piattaforme abilitanti perché appunto permette di accedere ai servizi digitali offerti da un comune per esempio contemplando l'accesso attraverso identità digitale o include nei processi che prevedono un pagamento il passaggio attraverso pagamenti pago PA e così via per cui appunto dicevo aderisce e è improntato a seguire le regole definite dai vari riferimenti normativi che nel precedente incontro abbiamo visto insieme e infine dicevo è flessibile perché permette a ciascun comune di creare la propria versione sia in termini di stile di stile grafico ma anche di adattamento della struttura del sito stesso in base alle esigenze specifiche che evidentemente ciascun comune ha in base alle sue caratteristiche geografiche di popolazione e così via un'altra caratteristica importante del modello è che è open è aperto è aperto perché è un modello condiviso per cui attraverso gli strumenti di designers e developers italia quindi il canale slack il forum è possibile interagire e confrontarsi sul modello con per esempio comuni amministrazioni che lo hanno utilizzato anche modificandolo o anche con altri semplici interessati è possibile contribuire portare le proprie proposte le proprie modifiche quindi partecipare alla sua evoluzione che è continua il modello è appunto per definizione dinamico in crescita è possibile appunto partendo dalle storie di successo diciamo così quindi dai casi di amministrazioni che lo hanno efficacemente proficuamente utilizzato e integrato prevedere diciamo espansioni o altri strumenti di supporto collegati al modello all'impianto del modello del portale stesso e infine e qui mi riferisco anche a una domanda che è stata fatta nel primissimo incontro nella quale appunto si chiedeva se il modello dei siti web per i comuni italiani è applicabile anche ad altre tipologie di pubbliche amministrazioni la risposta è appunto che il modello è pensato in maniera specifica per le esigenze dei comuni quindi la sua struttura in termini di architettura informativa rispecchia quelle esigenze specifiche ma la struttura del progetto è valida anche per poter ripensare con una adeguata chiaramente analisi dei requisiti specifici relativi ad un'altra PA di diciamo riutilizzare l'impianto complessivo per però adattarlo ad altre esigenze specifiche in particolare poi si sta lavorando in effetti alla costruzione di altri modelli applicati ad altri ambiti della pubblica amministrazione come per esempio la sanità o il mondo della cultura nell'ambito dei musei il modello dicevo è open è aperto è messo nel catalogo è pubblicato nel catalogo del riuso dove appunto tutte le amministrazioni tutti i fornitori di pubbliche amministrazioni che lo hanno utilizzato o hanno creato integrazioni del modello evoluzioni del modello pubblicano appunto le loro versioni e le mettono appunto a disposizione di altri per cui diciamo il modello originario diciamo creato da Designers Italia si è poi evoluto ed è ancora in questo processo di evoluzione cosa c'è concretamente cosa è disponibile sul portale di Designers Italia relativamente al modello esiste tutta ed è pubblicata tutta la documentazione tecnica di progetto che racconta non solo tutto il percorso che ha portato alla costruzione del modello ma fornisce anche degli strumenti di supporto a chi volesse integrare con proprie attività di progettazione per integrare il modello fornisce un'architettura dell'informazione molto dettagliata che definisce tutte le tipologie di contenuti veicolate dal sito web e le relazioni tra queste porzioni di contenuto e infine contiene una serie di template per le pagine del sito una serie molto ampia di template molto completa che diciamo contempla sia da una parte l'area pubblica del sito web che dall'altra ciò che riguarda l'area riservata cioè quella che permette a un cittadino di richiedere ed accedere ai servizi digitali offerti dal comune qui c'è un veloce riepilogo appunto della documentazione principale diciamo legata al modello per cui dicevo sono disponibili i template i documenti ma anche diciamo gli output delle attività di costruzione dell'architettura dell'informazione degli scenari di base a cui si è fatto riferimento per la costruzione del modello i vari prototipi in media e alta definizione e infine appunto i template html direttamente pronti per essere utilizzati una volta quindi definito a che cosa serve il modello per i siti web dei comuni italiani vorrei insieme ripercorrere in maniera rapida quello che è stato il percorso il processo che ha portato alla costruzione alla definizione del modello e diciamo in questo racconto farò riferimento a quello che è l'approccio il processo di progettazione che Designers Italia propone sul sul proprio sito e che del quale l'altra volta nello scorso incontro abbiamo visto nel dettaglio le varie le varie fasi è chiaro infatti che il il processo di progettazione del modello dei siti web per i comuni ha seguito quel tipo di percorso progettuale partendo da una solida e molto vasta attività di analisi di ricerca per la definizione dei requisiti funzionali e tecnici del modello stesso passando attraverso la progettazione di prototipi a livelli crescenti di definizione e infine al consolidamento della versione definitiva attraverso anche sessioni di validazione con utenti fino alla diciamo realizzazione dal punto di vista del codice quindi dei veri e propri template HTML delle pagine del sito le fasi che hanno caratterizzato questo progetto nello specifico sono partite come dicevo da una fase di ricerca che corrisponde alla fase del comprendere facendo riferimento al metodo di Designers Italia una fase che ha previsto la costruzione dell'architettura informativa e la definizione di pattern relativi a per esempio flussi di interazione diciamo sostenuti dal sito stesso che corrisponde alla fase di progettazione secondo il metodo Designers Italia una fase di prototipazione vera e propria a livelli appunto dicevo crescenti di fedeltà e di consolidamento dal punto di vista della realizzazione questa fase corrisponde alle fasi realizzare validare del metodo Designers Italia perché durante questa fase che qui vediamo indicata come tre sono state poi svolte anche sessioni di validazione con utenti del modello finale la fase quattro è la fase che potremmo definire è quella anche attuale quella che va avanti perché appunto è aperta quella della diffusione dell'utilizzo reale del modello da parte dei comuni e quindi della sua evoluzione e ottimizzazione continua la parte appunto di la primissima fase che vi racconto è quella che ha visto una vasta attività di ricerca di analisi preliminare alle attività di progettazione vera e propria per il modello in questa fase è stata svolta una porzione di ricerca qualitativa che ha visto interviste a cittadini a un campione quindi di cittadini potenziali utenti di un sito web di un comune interviste a stakeholder ovvero rappresentanti dei comuni pilota che hanno partecipato al progetto per la creazione del modello e anche delle sessioni di osservazione diretta di interazione tra operatori e cittadini presso URP o uffici comunali a questa fase di ricerca qualitativa poi hanno contribuito anche le attività svolte nell'ambito di un altro progetto il progetto svolto per MyPortal nella regione Veneto in cui è stata prodotta grazie al quale è stata prodotta una mappa dei servizi prioritari tra quelli offerti dai comuni si tratta di un grosso di una grossa attività di ricerca di un grosso progetto che ha permesso appunto di mappare i servizi prioritariamente offerti dai comuni attraverso un'indagine svolta su 150 comuni nell'area del Veneto a questa ricerca qualitativa dicevo è stata affiancata poi una ricerca diciamo di tipo più indiretto ovvero una ricerca di quelle che si definiscono desk basata cioè sull'esistente sui siti al tempo esistenti di comuni che aderivano al progetto al progetto pilota quindi primo tra tutti il comune di Firenze che è stato un po' veramente il primissimo spunto il punto di partenza dal quale il lavoro sul modello ha preso le mosse altri e di altri comuni che avevano nella prima ora adottato le linee guida per la progettazione e quindi avevano riprogettato il loro sito web in quella direzione i comuni sono quelli che vedete esposti in questa lista e questa analisi ha permesso quindi di fare valutazioni esperte sui siti di questi comuni valutare quali erano gli eventuali ambiti possibili punti da migliorare su cui lavorare per migliorare l'usabilità e l'accessibilità di questi siti inoltre al progetto hanno contribuito anche i risultati di un'altra ricerca che ha riguardato oltre 7000 comuni italiani che ha permesso di mettere in evidenza intanto parliamo di risultati relativi al 2018 chiaramente ha messo in evidenza la percentuale dei comuni che utilizzavano al tempo il layout quindi il kit lo UI kit di Designers Italia quindi il design system proposto da Designers Italia quanti di questi avevano diciamo garantivano una usabilità attraverso strumenti o device mobile e quali erano un po' le performance di questi siti i valori erano tutti tendenzialmente piuttosto bassi quindi segnalavano appunto delle necessità hanno messo diciamo l'accento sulle necessità di riprogettazione anche in quella direzione in quelle direzioni a queste attività è stata aggiunta anche un'attività di benchmark ovvero di analisi comparativa su siti di altri comuni italiani esclusi da quel campione che vedevamo prima e anche di siti di municipalità a livello internazionale quindi di città anche di diverse dimensioni quindi grandi come Parigi New York Amsterdam e anche di altre dimensioni infine sono state svolte delle sessioni di test di usabilità sul sito del comune di Firenze che allora come dicevo era stato appena riprogettato seguendo le linee guida e utilizzando il design system di Designers Italia in modo da mettere in evidenza anche partendo da quello quali potevano essere i punti da migliorare sulla base di tutta questa vasta attività di analisi si è andati avanti poi in quella che nel metodo a cui noi facciamo riferimento è la fase di progettare la nostra fase tre si è partiti come mostravo nello scorso incontro dall'individuazione di otto temi ricorrenti che sono le motivazioni principali per le quali gli utenti prioritariamente si collegano al sito web di un comune e sulla base di queste si è elaborato la definizione di scenari specifici che sono stati utili alla progettazione e alla costruzione di un impianto di architettura dell'informazione questo lavoro sull'architettura dell'informazione ha permesso di individuare i cosiddetti content type quindi delle tipologie ricorrenti di contenuto appunto da veicolare attraverso il sito web di un comune e il concetto di argomenti che collegano i vari contenuti veicolati da un sito in maniera trasversale ora posto che io non scenderò troppo nel dettaglio nell'analisi del concetto di architettura dell'informazione e dell'architettura dell'informazione che sorregge il modello perché questo sarà oggetto di un approfondimento specifico nel prossimo incontro segnalo solamente che appunto il lavoro sull'architettura ha permesso di individuare le sezioni principali di un sito web necessaria di un sito web di un comune qui vedete uno schema di alberatura un diagramma che visualizza come le informazioni all'interno di un sito vengono raggruppate in una maniera vedete anche piuttosto complessa e molto dettagliata dicevo le sezioni principali individuate per il sito web di un comune sono state quattro quattro sezioni principali amministrazione novità servizi documenti e dati più una serie di sezioni che possono sono state proposte come da mettere in evidenza focalizzate sui vari argomenti quindi su quei vari temi trasversali che il sito di un comune può trattare accanto a questo lavoro è stato svolto un lavoro di identificazione di dicevo di tipi di contenuto come per esempio la scheda del servizio anche su questo poi ci sarà un approfondimento più dettagliato ma questo lavoro ha permesso di individuare delle modalità ricorrenti dei pattern per la presentazione di alcuni tipi di contenuto che sono centrali fondamentali nel sito web di un comune come appunto vediamo la scheda qui la scheda di un servizio di uno dei servizi digitali che un comune offre e che deve essere ovviamente sempre diciamo presentare sempre uno stesso schema accanto a questo già nello scorso incontro abbiamo parlato dei flussi di navigazione di pattern di fruizione di esperienza utente si è cercato cioè attraverso per esempio il flusso che vediamo qui che è un flusso esempio di fruizione di un servizio digitale da parte di un cittadino si è cercato di individuare di tipizzare delle modalità di fruizione appunto di contenuti e quindi di servizi attraverso il portale in modo tale da fronteggiare una delle grandi difficoltà che si sono riscontrate nella costruzione di questo modello che si riferisce un po' a quanto dicevo all'inizio ovvero il portale di un comune offre una quantità e qualità di contenuti molto ampia e molto eterogenea al suo interno lo stesso si può dire per le tipologie di servizi che un comune offre quindi la difficoltà era quella di individuare un pattern di esperienza utente che permettesse di garantire uno stesso standard di usabilità ma anche uno stesso impianto impronta di esperienza all'utente che si trovi a navigare il sito con obiettivi che di volta in volta possono essere variabili la tipizzazione di questi pattern per esempio di interazione di questi flussi di navigazione all'interno del sito ha permesso anche di individuare un altro punto importante ovvero che ogni portale quindi ogni sito web di un comune è caratterizzato dalla presenza di un'area pubblica nella quale vengono veicolate le principali informazioni sulle attività i servizi gli aggiornamenti appunto che riguardano il comune è un'area diciamo riservata personale alla quale ogni cittadino può accedere utilizzando la propria identità digitale per accedere direttamente o richiedere direttamente dei servizi personali personalizzati su questo lavoro anche di distinzione delle due aree pubblica e riservata personale si è poi lavorato nella definizione delle singole pagine che vanno a popolare ciascuna di queste due aree quindi i template che poi vengono offerti nel prototipo ad alta definizione e dai template html riguardano entrambe queste aree dicevo quindi da questo modello dalla definizione di questi pattern si è passati poi alla costruzione di un prototipo a media definizione un prototipo progettato partendo dal mobile quindi garantendo sempre un'ottica e rispondendo all'esigenza a uno dei canoni diciamo così dei requisiti che fa riferimento appunto al mobile first quindi all'usabilità e all'accessibilità di uno strumento di un servizio digitale da diversi tipi di device progettato ricevo in media fedeltà utilizzando il kit di prototipazione di Designers Italia che appunto non è dotato di una maschera di uno stile grafico ma permette comunque di progettare tutte le singole pagine e quindi tutte le interazioni il prototipo in questo caso era interattivo ed ha permesso anche delle sessioni di validazione con utenti quindi per sondare tutti i percorsi definiti dagli scenari e quindi poi dai flussi di interazione di cui prima abbiamo fatto riferimento l'ultima fase è stata quella che ha visto la realizzazione vera e propria che ha dato maggiore concretezza diciamo così al modello questa fase è passata dalla definizione di un prototipo ad alta definizione quindi dotato di uno stile grafico di una maschera grafica in queste schermate appunto vedete un prototipo generico quindi applicato ad una città tipo sia in versione desktop che in versione mobile un prototipo ad alta fedeltà che come vedete rispecchia la struttura dell'architettura dell'informazione riportando le quattro sezioni principali e le tre diciamo sezioni legate agli argomenti nel menu principale e che propone dei layout di pagina pensati per permettere una scansione veloce dei contenuti ovvero la possibilità di individuare rapidamente i contenuti principali della pagina per esempio anche prioritizzando i vari contenuti per esempio nella sezione servizi quelli più utilizzati hanno una posizione preeminente appunto per essere immediatamente più visibili agli utenti che si recano che atterrano su quella pagina dicevo questo prototipo ad alta definizione ha permesso anche di svolgere dei test con gli utenti in modo da poter verificare che la proposta fosse usabile da diversi tipi di device che garantisse un'esperienza unitaria uniforme nelle varie aree nelle varie sezioni del sito inclusa l'area riservata quindi di fruizione dei servizi veri e propri al cittadino il prototipo come abbiamo visto anche nello scorso incontro ecco qui forse però il video in effetti non si vede qui era previsto un video di navigazione del prototipo ad alta definizione che abbiamo anche visto rapidamente nello scorso incontro perché il prototipo a cui si fa riferimento in questa schermata era un prototipo interattivo quindi navigabile che quindi come dicevo ha permesso di svolgere dei test di usabilità come se si trattasse di un sito già sviluppato quindi molto verosimile rispetto poi a un sito sviluppato questo è diciamo il template HTML per esempio di di una pagina appunto tipo del sito web del modello disponibile tra quelli disponibili sul sito di Designers Italia che appunto come vedete riporta in maniera molto fedele diciamo lo stile proposto già nel prototipo ad alta fedeltà ma è si tratta appunto dicevo di un template HTML quindi già direttamente utilizzabile questo rientra nella lunga lista di pagine che sono disponibili e già pronte all'utilizzo qui vediamo per esempio l'esempio di pagina di servizio della quale prima vedevamo lo schema quindi che riporta sulla sinistra le tipologie di informazioni tipiche di un servizio e sulla destra i contenuti specifici che riporta i tag in alto a destra ovvero gli argomenti ai quali fa riferimento un determinato servizio qui vediamo invece un esempio di pagina interna quindi dell'area riservata alla quale si accede utilizzando la propria identità digitale quindi la pagina che un utente si troverà accedendo con il proprio speed per esempio nella quale potrà accedere per esempio alle proprie richieste le richieste che ha inviato per usufruire di servizi da parte del proprio comune concludiamo diciamo quest'ultima parte vedendo rapidamente alcuni esempi di applicazione del modello da parte di comuni italiani che appunto hanno scelto di adottarlo una diciamo una nota su questo è che come dicevamo all'inizio la vocazione di designers italia è quella di offrire degli strumenti che permettano di proporre ai cittadini dei servizi usabili centrati sulle loro esigenze ma anche pensando alle pubbliche amministrazioni quindi anche degli strumenti che siano pensati per essere utilizzati in maniera semplice immediata dalle stesse pubbliche amministrazioni il modello stesso appunto è anche semplice da implementare da utilizzare infatti fornendo appunto un'architettura dell'informazione già completa non richiede una grossa attività diciamo manuale di personalizzazione delle sezioni e anche diciamo per la personalizzazione dell'interfaccia non sono necessari grosse attività diciamo dal punto di vista dello sforzo del lavoro manuale appunto quindi pratico che deve essere fatto inoltre il modello fa riferimento a delle classificazioni a dei vocabolari controllati standard condivisi a livello italiano e internazionale per cui anche in quel caso l'introduzione diciamo il popolamento dei contenuti è piuttosto agevolato semplice anche per appunto gli operatori che andranno a utilizzare nella pratica il modello implementandolo adattandolo alle esigenze del proprio comune l'altro dato che già prima menzionavo è il fatto che il modello è personalizzabile dal punto di vista dell'interfaccia dello stile grafico certamente quindi è personalizzabile con i colori del comune che di volta in volta lo utilizza ma è anche ovviamente modificabile e in evoluzione anche dal punto di vista della struttura perché è chiaro che i comuni a seconda delle loro caratteristiche e del loro della loro posizione geografica della loro grandezza hanno esigenze anche molto diverse tra di loro partiamo quindi con alcuni esempi partendo dal primissimo comune che si colloca diciamo in una fase precedente al rilascio del modello il comune di Firenze che abbiamo detto è stato un po' il pilota di questo progetto ed è stato anche quindi un punto di ispirazione proprio per la costruzione del modello venendo ad altri casi applicativi molto recenti come il caso per esempio del comune di Rimini che ha adottato il modello in maniera molto fedele al modello proposto da Designers Italia quindi come vedete adotta la struttura del menu esatta rispetto a quella proposta dall'architettura informativa proposta nel modello adatta lo stile grafico ai colori e alle esigenze della propria città tenendo presente che anche i contenuti veicolati per esempio anche all'interno della home page sono dettati dalle esigenze specifiche del comune di Rimini che è un comune chiaramente a grossa vocazione turistica e questo evidentemente condiziona anche quelli che sono i contenuti che principalmente gli utenti cercano nelle pagine del suo sito ma anche altri esempi vengono per esempio dal nord dalla città di Verbania che ha utilizzato il modello in maniera abbastanza fedele portando se vedete se riuscite a leggere il menu principale portando in evidenza diversi argomenti al primo livello di navigazione quindi nel menu principale e anche adattando alle proprie esigenze per esempio il layout della home page dando maggiore spazio al campo di ricerca ma altri esempi per esempio vengono da Comune di Cagliari che è stato uno dei primissimi ad adottare è stato proprio il pilota sul quale è stato costruito il prototipo ad alta definizione del modello che anche in questo caso adotta in maniera molto fedele l'architettura informativa e il design system diciamo l'impostazione di layout proposta dal modello di Designers Italia e poi ci sono una serie di casi per esempio proposti dai piccoli comuni italiani che hanno chiaramente esigenze particolari dovute alle loro caratteristiche diciamo geografiche di collocazione ma anche appunto legate alla popolazione in questo caso il comune di Seoui è un comune sardo un piccolo comune che ha deciso di adottare il modello adattandone diciamo adattando lo stile grafico all'esigenza del proprio comune ma anche di adattare per esempio alcuni aspetti nella visualizzazione della home page vediamo qui altri piccoli comuni per arrivare a questi piccolissimi comuni del Campidano sempre in Sardegna comuni con meno di 2000 abitanti che hanno come vedete molto cambiato l'impianto invece dell'architettura dell'informazione proposta dal modello semplificandola di molto adottando un menu annidato il cosiddetto hamburger menu e chiaramente quindi rispondendo ad una serie di esigenze molto molto differenti da quelli per esempio di comuni di media dimensione o di grandi dimensioni concludo ricordando ancora una volta l'appuntamento con la nostra community call che si svolgerà il 24 novembre e dando di nuovamente un riferimento a tutti i nostri contatti Designers Italia grazie allora eccoci Maria Cristina per favore se controlli il tuo video in modo che possa ecco ti rivediamo che non ti avevamo visto per un po' allora ti leggo delle domande che sono arrivate in chat dico che alcune ad alcune ha già risposto Michela Gabrielli del Dipartimento che ringrazio per la tempestività quindi diciamo che andrò a saltarle ricordando però che avete a disposizione la community di Slack Developers a cui potete accedere e in cui potete trovare un riscontro da parte di altri partecipanti rispetto a queste tematiche ti dico che anche molte domande sono sul sul modello delle scuole a cui Michela Gabrielli ha anche in chat inserito il link quindi possono le partecipanti possono rivelsirsi a quel link veniamo alle domande allora Valerio Pinna chiede nei forum di Designers Italia sono presenti anche esempi di alcune regioni italiane che hanno provato ad applicare le indicazioni Aged pensate sia vicino il momento di stilare delle linee guida UX e UI al pari di quelle dei comuni anche per le regioni se sì come si potrebbe contribuire? Dunque allora se diciamo forse si intende se ho interpretato bene la domanda si chiede se è in programma la costruzione e il rilascio di un modello di sito web per le regioni la difficoltà chiaramente nel nostro caso è quella chiaramente di riuscire a avere le risorse chiaramente anche interne a lavorare ad un'attività di analisi e di progettazione molto vasta come quella che appunto è stata richiesta per la costruzione del modello comuni che dovrebbe analogamente essere implementata nel caso delle regioni quindi non posso certamente dire che né per quando diciamo è in programma il rilascio di un modello per le regioni certamente però è possibile contribuire e io rinnovo sempre l'invito a iscriversi ai canali di Designers Italia al canale Slack e a Forum Italia perché diciamo ci sono proprio sedi dedicate alla discussione al confronto anche su questo tipo di temi quindi su modelli per altre tipologie di enti dove ciascuno può portare magari il proprio caso il proprio esempio o la propria competenza per contribuire alla costruzione di questo modello perché no? Ok allora Nadia Luisa Caprotti dice mi risulta che il sito scuola è stato fatto esclusivamente per Wordpress sul modello di sito web per le scuole io in questo momento non so rispondere a questa domanda perché non sono certa che la risposta sia sì che sia stato creato esclusivamente per Wordpress quindi direi che mi riservo di approfondire questa domanda e di dare una risposta magari successivamente quindi di verificare internamente però comunque il modello di sito web per le scuole è comunque disponibile sul portale Designers Italia quindi analogamente a quello per i comuni può essere scaricato utilizzato e visibile Perfetto Nadia Grisoni chiede il tema Wordpress verrà poi successivamente aggiornato sulle nuove esigenze vigenti? Allora non so diciamo se capisco esattamente a che cosa ci si riferisce in termini di esigenze vigenti se diciamo ci si riferisce alle normative sull'accessibilità usabilità e i vari diciamo vincoli normativi previsti dall'inquadramento dal contesto normativo a cui poi facevamo riferimento nell'incontro precedente il modello risponde a gran parte di quei requisiti ma come dicevo il modello per definizione è aperto è in evoluzione e quindi necessariamente laddove vengono individuati i punti di debolezza quindi di non rispondenza ai constraints ai vincoli definiti dalle norme chiaramente ci si lavora e si cerca chiaramente di adeguarlo ok in chat Daniele Tabellini dice sì c'è un capitolato in partenza che lo aggiornerà nei prossimi mesi quindi abbiamo una risposta e poi rimandiamo a eventuali informazioni proprio sul modello scuole prossimamente diciamo invece Marco Sbruzzi dice non ho capito bene cosa vuol dire che il modello è svincolato dalle tecnologie intendevo dire che diciamo questo non condiziona l'adozione del modello non condiziona il comune sull'adozione di un determinato tipo di di tecnologia rispetto ad un'altra il modello fa riferimento appunto all'impianto strutturale del sito quindi alla sua architettura informativa all'organizzazione dei contenuti alle relazioni tra i contenuti e all'impostazione dei layout in termini di definizione appunto della struttura delle pagine utilizzo del del design system di designers italia ma appunto non vincola dal punto di vista tecnologico su questo poi comunque io rimando sempre agli incontri successivi l'ultimo dei quali sarà dedicato proprio alla parte insomma di progettazione e realizzazione dal punto di vista appunto tecnico tecnologico del modello ok salvatore severo chiede è disponibile anche per drupal su questo sempre sulle domande di tipo tecnico io rimando sempre al ai prossimi webinar all'ultimo credo diciamo sul quale si affronteranno temi tecnici che non sono la mia specifica competenza ok Valerio Pinna chiede pensate che i modelli di pagina template dei comuni siano in parte riutilizzabili anche per le regioni ad esempio quelli dedicati per le notizie e servizi eh sì come dicevo insomma sia durante l'intervento che poco fa allora il modello è stato progettato tenendo presenti le specifiche esigenze dei comuni come abbiamo visto è stata svolta un'importante attività di analisi e di ricerca centrata proprio sui comuni quindi tutta la struttura ehm delle informazioni e quindi anche legata all'ambito dei servizi al cittadino eh è pensata per rispondere alle esigenze di un comune si tratta appunto dei servizi al cittadino che i comuni offrono che sono molto diversi ovviamente dalle esigenze di una regione eh anche in termini di eh quantità e qualità delle informazioni che il sito di una regione per esempio offre quindi se l'impianto generale ovvero l'impostazione del modello è eh diciamo utilizzabile come riferimento però per utilizzarla per una regione o un'altra realtà un'altra amministrazione sarebbe necessario ripartire da una fase di analisi e di ricerca che mette in evidenza quali sono i requisiti specifici per quel tipo di ente quindi io consiglierei di rifare impostare un'attività di ricerca per esempio con stakeholder con utenti fare una ricerca anche cosiddetta desk quindi comparativa eh con altre per trovare individuare best practice prima e piuttosto che utilizzare il modello così com'è chiaramente ok Fabio Pezzuoli ehm dice utilizzato i temi wordpress per le scuole per i comuni per una scuola una provincia in entrambi i casi sono state fatte delle personalizzazioni ehm al netto del fatto che Michela Gabriele ha già risposto che può diciamo comunicare sulla community in modo da diciamo partecipare questa sua esperienza però chiede è obbligatorio segnalarli? ehm anche qui non so se dunque sono state fatte delle personalizzazioni ovvero sono state apportate delle modifiche sul modello delle integrazioni beh direi di sì che insomma sarebbe opportuno e richiesto pubblicare se appunto le modifiche sono state apportate al tema wordpress pubblicarle diciamo quindi renderle anche disponibili e pubblicarle per esempio nel catalogo del riuso e questo però su questo su questi temi invito sempre a magari parlarne a confrontarsi nei canali per esempio sul canale Slack dedicato ok Gaia Manganello chiede sulla base di quali parametri sono stati campionati cittadini che hanno partecipato alle interviste e alla validazione del prototipo dunque allora intanto tutta la documentazione di progetto è disponibile partendo dal dal sito designers Italia pubblicata appunto e quindi tutta pubblica quindi leggibile si parla qui di attività diverse di interviste quindi di analisi e di attività di validazione in generale in questi tipi di attività quindi sia di analisi che di validazione si tende a costruire dei panel di riferimento che siano diciamo vari variati al loro interno in nessuno di questi casi l'ambizione è quella di costruire dei panel che siano rappresentativi della popolazione questo non è richiesto proprio dalle metodologie consolidate presenti in letteratura si parla di metodologie di etnografia rapida cosiddetta che quindi permettono con campioni relativamente ristretti di soggetti però di rispondere alle esigenze per esempio nel caso dei testi di usabilità già con un campione piccolo di 5-6 soggetti è possibile individuare oltre l'85% dei problemi di usabilità di un sito di solito si tende a creare dei campioni dei panel che siano variegati al loro interno quindi rappresentativi di più caratteristiche diverse però per i dettagli del caso comune io rimando alla lettura della documentazione che è pubblicata Daniele Garau chiede se è prevista un'app compatibile con le linee guida è prevista nel senso che è in lavorazione e no dire di no il sito come detto e quindi il modello è stato progettato in modalità mobile first quindi è perfettamente usabile accessibile da tutti i tipi di device sia per quanto riguarda l'area pubblica che per quanto riguarda l'area privata l'area riservata insomma quella personale del cittadino ok Roberto Fabrizio dice perché l'Italia che vanta realtà pubblico private avanzate in ambito di diazione e programmazione deve rifarsi a prodotti open source e non pensare di crearsi un CMS proprietario con specifici temi e template per i diversi tipi di amministrazione scuola comuni ministeri in sintesi perché adattarsi all'open source e non creare da zero un CMS in relazione alla necessità dell'APA per poi farne i modelli di riferimento obbligatori per ministeri scuole comuni e regioni eccetera riferimento dunque qui si aprirebbe diciamo una discussione molto interessante e molto importante sulla quale forse però non c'è qui il tempo le modalità giuste per farla quello che posso dire è che diciamo l'open source non viene visto come un vincolo una limitazione ma il concetto di software open e il concetto di riuso sono invece dei riferimenti fondamentali imprescindibili della strategia di transizione digitale del paese sono quindi ormai diciamo consolidati stabiliti addirittura appunto il riuso è un la registrazione al catalogo del riuso è un obbligo appunto per le pubbliche amministrazioni e per i fornitori delle pubbliche amministrazioni e diciamo ci sono tutta una serie di valutazioni che andrebbero fatte che riguardano temi di sicurezza di ottimizzazione dei costi e soprattutto il tema di evitare il il legame o meglio il vincolo il cosiddetto lock in rispetto a fornitori o appunto forniture che appunto potrebbero in generale un rapporto di dipendenza della pubblica amministrazione da questo tipo di strumenti però come dicevo qui il discorso è molto molto vasto e approfondito e interessante quindi la domanda è certamente molto interessante ma forse andrebbe approfondita con un webinar dedicato ok allora ringrazio Maria Cristina per la completezza ci sono arrivate ovviamente tantissime altre domande quello che possiamo fare se riusciamo subito dopo la pausa facciamo un altro piccolo diciamo sunto se arrivano altre domande in chat e quindi direi che sono le 15.31 possiamo darci questi 10 minuti di pausa caffè e ci rivediamo puntuali tra 10 minuti quindi a 41 grazie eccoci bentornati puntuali alle 15.41 riprendiamo allora considerando che sono arrivate tante domande in chat perché il tema a quanto pare è molto sentito e molto diciamo anche dei commenti quindi c'è anche modo di scambiarvi delle esperienze che possono essere utili per il vostro lavoro rimandiamo quindi la risposta a queste domande alla community slack che vi ho segnato in chat quindi prego subito il prossimo relatore fabrizio caccavello di collegarsi eccolo e allora il suo intervento tratterà l'accessibilità dal modello all'implementazione proprio a parlare buon pomeriggio a tutti perfetto sente chiaro e quindi lascio la parola buona comunicazione grazie grazie ancora ben arrivati a tutti quanti a questa seconda parte di questo webinar dedicato alla creazione dei siti web delle pubbliche amministrazioni con riferimento appunto a quello dei comuni e sono Fabrizio Caccavello sono di Agile sono un rispetto di accessibilità ecco perché questo task parleremo appunto di accessibilità e come dice il titolo di questa presentazione come si passa dal modello all'implementazione è importante ragionare in termini di accessibilità e questi livelli e come spesso capita quando si fanno questo tipo di attività è bene sempre fissare alcuni prerequisiti e in questo caso io ho un prerequisito che deve essere un po' il punto di partenza dei nostri ragionamenti il prerequisito è una domanda che spesso ci viene fatta a noi tecnici a noi oggi mi metto nella sfera dei tecnici ma insomma è sempre un lavoro un po' a cavallo tra tutte tante cose quello di esperti di accessibilità una domanda che ci viene fatta sempre cioè se io ho un framework o comunque un modello accessibile e lo lo prendo e ci creo un qualcosa un servizio digitale quel servizio quindi sarà accessibile by default in realtà tutto questo deve essere racchiuso in tante piccole considerazioni che proveremo a fare oggi in questo breve percorso che però ho cercato di rendere significativo partendo proprio dall'analisi dei modelli di cui prima Maria Cristina ha diciamo ha illustrato innanzitutto un framework o comunque un modello per creare un servizio digitale è sempre un valido supporto quindi come si diceva una volta mai ripartire dalla ruota no? ok ma deve avere almeno due racchiudere due temi fondamentali cioè che debba essere accessibile by default e che debba includere in sé delle informazioni a supporto per l'implementazione e questo perché noi abbiamo di fronte un argomento fondamentale che è l'accessibilità ma che porta con sé una parola chiave oggi infatti la parola chiave di questo mio intervento è appunto una parola chiave che è la semantica molto spesso si archivia il concetto accessibilità come un qualcosa per tecnici un controllino finale da fare alla fine del processo qualcosa che riguarda il codice i template e alcuni automatismi che si possono fare per verificarne la consistenza oppure insomma per verificare se è un progetto accessibile oppure non lo è tutto questo è parzialmente vero ma è ancora più vero che si parla soprattutto di semantica e cioè di cosa che cosa rappresentano gli oggetti che si sono disegnati e come vengono implementati ecco perché è importante mettere in mezzo fra la progettazione e il bellissimo percorso che ci ha descritto Maria Cristina prima anzi devo dire un percorso che ha portato al modello di design dei siti e dei comuni lungo come già abbiamo ascoltato complesso è chiaro coinvolto molti professionisti le pubbliche amministrazioni in prima persona e molte persone insomma hanno lavorato e a questo percorso che si è concluso anzi non si è concluso perché proprio trattandosi di un modello è chiaro che la sua evoluzione è una cosa che è in sé perché nessuna struttura infrastruttura digitale potrà mai dichiararsi conclusa lo sappiamo tutti chi di noi si occupa di cose digitali sa benissimo che non esiste un processo che si conclude in un determinato momento ma ci sarà sempre spazio per ulteriori miglioramenti o altri tipi di interventi quindi abbiamo detto che la parola chiave è semantica quindi per creare servizi digitali accessibili non è sufficiente l'implementazione acritica di un template di un modello di un qualcosa che ci permette di non partire dalla ruota questa è una chiave di lettura che qualche volta sfugge soprattutto nel mondo dello sviluppo dove siamo rincorsi dalle dinamiche della fretta dell'abbattimento dei costi del cercare in tutti i modi di fare cose efficaci efficienti magari con strutture predeterminate o con risorse già sperimentate da qualcun altro e questo è fondamentale però è sempre necessario applicare questi modelli già preparati in maniera non a critica bisogna sempre porsi delle domande chiave qualche volta ecco dicevo si cerca le scamotage di dire sì ok va bene ma fondamentalmente come devo fare è tipico nei workshop dove si parla di accessibilità non si ok tanti discorsi ma alla fine concretamente cosa devo fare la risposta è che concretamente bisogna sapere queste cose non si può pensare che ci sia diciamo qualche volta spiritosamente si dice l'aiutino esterno di qualcuno che possa aver fatto by default un qualcosa al posto nostro vediamo quindi come si può ucire questo ragionamento partendo proprio dall'applicazione dei modelli dei siti internet dei comuni la cosa vedremo adesso quindi in questa presentazione vedremo alcune parti dei remplaci di HTML che sono disponibili appunto su Designs Italia e vedremo come possono essere implementati avendo in testa un obiettivo ben preciso che è quello di accessibility by default prima Maria Cristina ha detto una cosa molto importante siamo svincolati dalla tecnologia l'accessibilità si basa su un documento del V3C uno standard che si chiamano VCAG la cui versione ormai è la 2.1 che è svincolata dalla tecnologia così come è giusto che un modello sia svincolato dalla tecnologia che poi ci sia inserito dopo che il modello diventi il tema utilizzato su WordPress o su Drupal o che diventi semplicemente un tema HTML da usare in una pagina statica HTML non è questo non ci importa l'importante è che noi abbiamo di fronte un obiettivo che è quello di accessibile by default svincolato da un modello da una tecnologia di riferimento da un CMS di riferimento allora andiamo ad indagare alcune cose importanti che ci portano quindi a capire che l'assunto che abbiamo fatto prima e cioè che il template non è soddisfacente per garantire l'accessibilità finale di un progetto digitale di un servizio digitale ecco vediamo questi step che possono essere a mio avviso ho cercato di farli diventare illuminanti per capire proprio questo passaggio allora quando si parla dell'accessibilità c'è una cosa che subito si dice cioè il testo alternativo per le immagini e quando se ne parla è come se fosse una cosa vabbè a chiunque ormai sa che il testo alternativo per le immagini no non è esattamente così e vediamo perché per esempio il modello dei comuni prevede che ogni sito possa avere un'apertura composta da un titolo un'abstract alcune call to action e a fianco una immagine in fase di implementazione è fondamentale capire e farsi una domanda e cioè ma quella immagine è correlata strettamente alla notizia che ho a lato oppure no per esempio chi sta implementando sta pensando che lo spazio dedicato alla notizia è un flusso che si aggiorna in maniera indipendente dall'immagine oppure l'immagine è della notizia perché è fondamentale questo perché un testo alternativo per le immagini deve essere adatto all'immagine e al contesto che sta rappresentando quindi se un'immagine l'esempio che faccio sempre è se sto parlando degli occhiali indossati da una persona e metto l'immagine di Fabrizio in un articolo correlato non sarà importante dire che quell'immagine è di Fabrizio Caccavello perché sto parlando dell'importanza degli occhiali in quel contesto il testo alternativo dell'immagine è persona con gli occhiali non importa che sia quella persona se invece quella stessa immagine la utilizzo in un contesto diverso dove dico il giorno non mi ricordo il giorno è oggi 16-17 novembre Fabrizio Caccavello è intervenuto ad un webinar su accessibilità quella immagine rappresenta Fabrizio Caccavello non è importante che ha degli occhiali ma perché è esattamente Fabrizio Caccavello quindi capite che qual è quindi il lato implementazione quali sono i risvolti innanzitutto quando io sto progettando un CMS o utilizzando un CMS o in qualunque altro contesto che prevede per esempio un repository delle immagini è fondamentale che quel repository possa essere un serbatoio ma che l'immagine possa avere un proprio testo alternativo per ogni istanza non un testo alternativo by default perché in ogni istanza il testo alternativo potrebbe essere leggermente diverso e rappresentare un contenuto semantico diverso in base a quando è stata utilizzata oppure in qualche caso per esempio anche nel caso del comune quella immagine così come nella demo che è presente nel template l'immagine non ha un significato è un orpello è un orpello è solamente un abbellimento è come se fosse un qualcosa che non conferisce significato ma è un abbellimento in quel caso devo permettere che il testo alternativo debba essere lasciato vuoto quindi capite che è chiaro che dire anche per questo primissimo step che il template esprime esattamente l'accessibilità sarà comunque sbagliato perché il template può essere accessibile al 100% come volete ma se ci metto il testo alternativo è sbagliato perché potrebbe non volere potrebbe essere non necessario se ci scrive una cosa a caso è sbagliato perché magari poi è forviante rispetto al contesto se lo metto nel contesto do l'impressione che debba essere sempre nel contesto invece magari qualche volta potrebbe non esserci capite che ecco solo da questa prima riflessione ci fa capire lo stretto legame fra l'accessibilità la semantica e perché non potrò mai dire che un template è accessibile by default e che quindi no anzi è accessibile by default può esserlo ma che il prodotto finale fatto con un template accessibile by default è necessariamente accessibile attenzione poi non mi dimentico mai di lo scritto anche nella ripositiva nella slide che attenzione a quando si fanno cose che sono al di fuori da ogni logica e cioè valorizzare il test alternativo dell'immagine con lo stesso la stessa stringa del titolo dell'articolo questo è comunque si faccia e non mi vengono in mente casi in cui possa essere accettabile un errore di accessibilità altre piccole cose altre piccole riflessioni e scenari nel nostro template noi abbiamo il pulsante un altro che dice accedi all'area personale praticamente è una call to action verso i servizi chi ha fatto il template giustamente aveva una scelta da fare che cosa faccio lo creo come un ancora quindi un collegamento a una pagina interna oppure lo creo come un pulsante quindi un oggetto che mi crea interazione nel contesto è molto importante è molto importante questa distinzione perché in base a come è costruita un'interfaccia utente le tecnologie assistive potranno guidare i propri utenti verso una comprensione delle interfacce e è importante sapere se una volta selezionato un oggetto resterò nella pagina oppure so già che sarò catapultato da un'altra parte chi ha fatto il template ha deciso di mettere un ancora ipotizzando che quel quel click possa essere un pulsante un link scusate che porta alla pagina dei servizi ma in fase di implementazione magari lo sviluppatore o l'ente potrebbe decidere di renderlo invece un button perché magari quella azione potrebbe creare non so una finestra modale per l'accesso ai servizi che chiede il login potrebbe creare potrebbe attivare un drop down potrebbe compiere altre azioni che richiederebbero un button anziché un ancora e quindi il template è giusto o è sbagliato dipende dalla sua implementazione il template è giusto ma l'implementazione è fondamentale per produrre il servizio accessibile altro esempio il nostro template mostra un menu di navigazione giustamente è racchiuso in un elemento nav che è l'elemento html semantico che descrive un menu di navigazione in questo in questo menu è stata fatta una scelta il menu è composto da un solo elemento di navigazione ma dentro annidate ci sono due liste quasi a far percepire all'utente che sono due aree un po' separate e è molto giusta questa interpretazione perché io anche visivamente posso controllare posso vedere che il menu non è unico ma è come se fosse diviso in due parti c'è una parte che sta a sinistra e una parte che sta a destra ma in fase di implementazione nel mio contesto nel mio comune perché magari come ci ha spiegato prima Maria Cristina i comuni sono anche molto diversi l'uno dall'altro immagino che un conto è fare per il sito per il comune come il già citato comune di Firenze è un conto la complessità di fare un sito per un sito per un comune magari di un piccolo borgo di 500 abitanti magari le esigenze le necessità sono veramente molto molto diverse in questo caso quindi potrebbe succedere che quell'unico menu che lì è pensato in un'unica forma possa essere interpretato come due menu separati a questo punto se si va in questa direzione e il template non può dirlo il template è un suggerimento chi fa l'implementazione deve prendersi la responsabilità di interagire con questa infrastruttura e dire ok mi prendo la responsabilità di sdoppiare il menu crearne due e a quel punto devo essere consapevole che dovrò inserire nuova semantica per far comprendere che sono due menu distinti magari che ne so menu principale o menu servizi menu menu amministrazione menu turismo non so adesso faccio esempio a caso ovviamente non è il mio settore ma quello che mi interessa è che quando l'utente con tecnologie assistive andrà a visitare questa interfaccia capirà perfettamente che si tratta di due menu completamente diversi e non come prima uno stesso menu con due rami capite che questo anche in questo caso la nostra abilità sarà nell'aggiungere semantica agli oggetti proposti dal template per renderli più accessibili oppure per renderli proprio accessibili andiamo avanti abbiamo un'altra sezione del template quella che si trova vicino al calendario che mostra una toolbar quindi un'area di funzionalità e in quest'area di funzionalità ci sono dei pulsanti ok anche qui il template costruisce giustamente quei pulsanti in maniera come può fare un template ma la domanda che ci dobbiamo porre anche in questo caso è una domanda molto importante perché quando andrò a prendere quel template e utilizzarlo nella mia infrastruttura dovrò chiedermi benissimo io trovo dei pulsanti ma quei pulsanti cosa fanno qual è il comportamento semantico che intendo dare a quei pulsanti perché per esempio ci potrebbe essere un comportamento molto semplice ossia io ho un calendario o un overview in home page ma magari è solamente una primo un overview sui giorni più prossimi o quelli popolati dai prossimi eventi dalle prossime istanze presenti nel calendario ma magari il calendario più complesso e più diciamo esteso ce l'ho in pagine interne e magari voglio condurre il mio utente nella pagina interna del calendario non focussando il singolo evento ma mandandolo a tutti gli eventi a quelli consigliati a quelli che sono evento insomma una serie di scelte nel che il modello mi propone in quel caso i miei link appunto li ho chiamati link i miei pulsanti dovrebbero diventare link perché io sto dicendo che quegli oggetti porteranno l'utente in un'altra pagina e quindi è evidente che in questo caso quell'oggetto che adesso è button perché chi ha pensato al template l'ha pensato a un filtro nel calendario dovrò trasformarlo in un ancora capite che anche questa cosa è molto interessante perché vuol dire fornire al mio utente una completa consapevolezza dell'oggetto con cui sta interagendo è ovvio che magari in questo caso il costruttore del template avendomi suggerito l'elemento button mi sta dicendo guarda che quando implementerai questo oggetto mi aspetto che tu farai un filtro nel calendario che hai sotto perché magari questo è il comportamento che abbiamo meglio sperimentato nel bel percorso il lungo percorso che prima abbiamo ascoltato perché se no ovviamente andiamo a interpretare un qualcosa che è al di fuori di cose che sono state ampiamente meditate e studiate per molti anni da molti colleghi poi è chiaro che si può fare tutto si può fare tutto bene ma bisogna prendersi la responsabilità quando si va a modificare di farlo in una certa modalità allora altro argomento molto interessante in questo caso come in molti template diciamo che questo è una delle strutture una delle interfacce più utilizzate ultimamente anche perché è una interfaccia che si adatta molto sia al desktop che al mobile cioè quello della struttura che in ambiente bootstrap viene chiamata card ci siamo inventati nel corso della storia di internet diciamo così dell'ultimo periodo il fatto che alla fine di ogni card possa esistere una mini call to action che porta verso dei servizi verso la comprensione del servizio stesso o verso aree interne ecco nella mia affermazione c'è già la problematica che cosa dove mi porta verso area interna o mi porta verso a un leggi altro di quella cosa che ho appena letto è molto diverso questo infatti in accessibilità si dice devo specificare lo scopo del collegamento molte volte noi non indichiamo lo scopo del collegamento ma mettiamo un'etichetta che lascia il tempo che trova incomprensibile che gli utenti magari non riescono a capire prima di fare click perché anche qui c'è un altro problema molto spesso chi è abituato a utilizzare l'interfaccia sa benissimo che un click non costa nulla ma chi studia l'interfaccia chi fa user experience chi fa analisi dei dati delle navigazioni utenti e chi fa accessibilità sa benissimo che un click può essere molto faticoso è molto faticoso per l'utente che non può fare click perché molte persone non possono fare agevolmente un selezionare un collegamento perché magari devono farlo con una tastiera virtuale perché magari devono farlo con una tastiera con la tecnologia assistiva perché magari hanno difficoltà nel movimento e lato invece marketing sappiamo benissimo che un collegamento un click è molto importante quando chi fa analisi dati ci dice guardate che al secondo click ci arriva il 70% delle persone vuol dire che quel 30% l'ho già perso quindi specificare il collegamento è molto importante e dov'è il problema nel template qui non c'è il problema perché io sto leggendo una card dove capisco che si parla della una parte dell'amministrazione e la call to action dice tutta l'amministrazione poi la card che parla dei pagamenti mi dice tutti i servizi perché è un servizio molto spesso troviamo delle card che dicono avanti scopri vai continua leggi tutto può anche andare bene ma può non può andare bene se tutti quei link portano nello stesso collegamento perché per esempio una persona che navica con tecnologia assistiva e per navigare si fa fare si fa ricapitolare tutti i link presenti nella pagina a quel punto avrà dodici venti trenta link che dicono leggi tutto leggi tutto leggi tutto leggi tutto senza specificare lo scopo del collegamento e allora è importante fare queste riflessioni perché quello che è giusto by default quando lo vado applicare può diventare un vero problema quindi capite che anche una semplice card ben fatta per carità non è questione del template è la sua applicazione che può creare problemi di accessibilità all'interno del del template abbiamo anche appunto altri tipi di card appunto nella zona mi sembra di ricordare dei servizi allora in qualche card il template suggerisce che è possibile mettere una piccola flag azzurra che che cosa fa beh allora qualche volta viene si può interpretare che non fa nulla che è un semplice segnaposto che sta lì un orpello grafico ma io immagino che nello spirito di chi ha ipotizzato il template potrebbe non esserci questa idea che si può trattarsi solo di un orpello grafico ma potrebbe essere un segno un marcatore semantico che dice attenzione perché questa card su questa card devi porre la tua attenzione quindi punto numero uno se la card non fosse di un colore non ben contrastato le persone con ipovedenza o i daltonici potrebbero non accedere a quel contenuto perché a quel punto diventa un contenuto se quell'immagine è solo un'immagine di sfondo magari creata con css sarebbe priva di semantica e quindi le persone con tecnologie assistive potrebbero non capire anzi sarebbero impossibilitate nel capire che quella card ha una sua evidenza semantica quindi capite che anche questa cosa è importantissima perché io sto inserendo in un orpello grafico un contenuto semantico e se ce lo metto devo aggiungere quel contenuto semantico a tutte le persone anche a quelle che utilizzano tecnologie assistive anche alle persone ipovedenti anche alle persone con daltonismo e anche alle persone che quindi non hanno la possibilità di interagire con un oggetto solamente grafico quindi si vede ma deve anche essere questa cosa è molto importante e riguarda molte parti molte sfere dello sviluppo accessibile dell'interfaccia utente e quando facciamo test di accessibilità molto spesso troviamo questo tipo di errore perché magari questo tipo di interpretazione non viene fatta correttamente e pongo quindi l'attenzione proprio su questo fatto che si porta dietro questa riflessione che abbiamo fatto proprio cercando di analizzare la card del template dei comuni sui risultati della ricerca si apre chiaramente un mondo di considerazioni cercheremo di limitare alcune cose allora giustamente il template suggerisce di dare come risultato della ricerca una pagina un po' più complessa di quello che potrebbe essere cioè nel senso qualche volta non abbiamo visto troviamo in molti cms come risultato della ricerca una semplice listato di contenuti filtrati con quella parola chiave è così per esempio anche quando facciamo una ricerca su google per dire quindi non è niente di sbagliato anzi una ricerca semplice efficace che si basa su un motore di ricerca interno efficace ed efficiente è anche una strategia ottima in caso di molti contenuti è molto importante avere invece dei filtri che permettono di migliorare il risultato della nostra ricerca se implemento i filtri devo a quel punto però garantir dell'accessibilità per esempio nel caso nel nostro template quando andrò a implementare le categorie dovrò accertarmi di non fornire nessuna interazione al focus perché se no una persona che accede alla categoria direttamente da tastiera magari si mette lì a switchare tutte le flag potrebbe trovarsi con la parte che si autogenera alla sua destra in continua evoluzione e questo potrebbe disorientare la persona poi per esempio quando dico che il risultato della ricerca ha fornito 500 risultati se questo risultato lo faccio nella pagina e ossia il risultato della ricerca non avviene attraverso un link perché se io ho una pagina diversa dove cerco una parola e la pagina di atterraggio è questa io non ho uno spostamento di contesto perché io ho uno spostamento di contesto che mi viene segnalato dalla pagina che si aggiorna ma se io immagino che qui sopra c'è un campo di ricerca e ogni volta che cerco quel numero cambia io dovrò fornire ai miei utenti la possibilità di percepire che quello che sta sotto è cambiato in base alla mia ricerca quindi chiaramente questo apre uno scenario uno scenario di correttezza nella implementazione delle interfacce quindi il modello è un suggerimento di implementazione e ovviamente nei casi in cui la mia tecnologia le mie esperienze le mie risorse non mi permettono di creare una cosa di questo genere accessibile così come brevemente adesso abbiamo indicato poi chiaramente se si potesse risolvere con tre minuti di workshop e su una diapositiva il mondo sarebbe facilissimo non è così però se non ho queste risorse a disposizione devo assolutamente cercare vie accessibili magari più semplici benvenga anche la lista semplice di risultati purché accessibile perché dobbiamo garantire alle persone con qualunque caratteristica di accedere ai contenuti poi il bello ce lo aggiungiamo dopo ce lo aggiungiamo quando siamo sicuri che abbiamo fatto accessibile by default quando abbiamo costruito per tutti non dico con questo che una cosa accessibile è brutta anzi diciamo in tutte le azioni che facciamo di recupero dei problemi di accessibilità non si è mai andato verso la tra virgolette bruttezza non esiste belle e brutte inaccessibilità è un vecchio è un vecchio la vecchia idea sbagliatissima esiste accessibile o non accessibile poi c'è un penultimo step importante che dice allora attenzione ma nel nostro template noi abbiamo anche una ipotesi di una parte interna dedicata ai servizi quindi dedicata a un qualcosa a un mio profilo come cittadino allora qualcuno potrebbe dire sì ma qui stiamo sforando in una web application oppure non è più un sito una web application attenzione perché qual è il confine fra web application sito internet chi poi mastica di cose tecnologiche sa benissimo che possiamo fare anche progetti web che poi diventano applicazioni mobile native quindi stiamo parlando di un mondo veramente complesso dove il confine tra una cosa e l'altra può essere veramente scarsa quindi in questi casi bisogna fare veramente molta attenzione l'accessibilità quindi è un ciclo che va immerso va immersa nel ciclo di progettazione e poi deve avere i suoi piccoli momenti dedicati nella formazione nelle strategie nelle obiettivi nelle verifiche l'ultima cosa che voglio dirvi è la consapevolezza quindi attenzione quando facciamo le cose bisogna metterci consapevolezza vi lascio con questa ultima slide bene siamo alle domande vedo eccoci qui allora le domande stanno arrivando copiose allora iniziamo Marco Rubin tutti i link inseriti nell'intestazione sono senza sottolineatura o comunque senza distinzioni evidenti a livello di stile e neanche di colore vorrei capire se il modello a questo punto rispetta voci AG 2.1 141 uso del colore assolutamente sì perché le voci di menu sono comunque un menu e la tecnologia assistiva comunicherà comunque che si tratta di un menu e non c'è bisogno di utilizzare il sottolineato per distinguere un collegamento il collegamento deve essere distinto con il sottolineato quando sta all'interno di una pagina ok grazie allora Antonio Ernesto Pizzi Giannice o Giannice nel piccolo borgo conviene sdoppiare i menu allora conviene solo se il contesto lo richiede ossia se io immagino un menu che dice il comune i servizi il turismo che ne so è chiaro che sono 4-5 oggetti lineari che non hanno una vera differenza semantica nessuno diciamo obbliga a sdoppiarlo altra cosa per esempio che abbiamo riscontato recentemente quando per esempio una parte del menu rimane nel sito perché sono servizi all'interno del stesso sito l'altra parte porta addirittura a siti esterni a quel punto a mio avviso è corretto sdoppiare il menu perché addirittura quel menu secondario diventa addirittura un menu secondario che porta a siti esterni in quel caso ha un valore semantico diverso ok vino liberale per non vedenti meglio A o button riguardo la sintesi vocale? dipende dal significato tutte e due è importante che sia ben specificato che le ancore siano ancore cioè collegamenti verso pagine diverse o verso contesti all'interno di questa pagina e che i pulsanti siano azioni nel contesto le tecnologie assistive saranno perfettamente in grado di comunicare alle persone che le utilizzano qual è il funzionamento dell'oggetto è sbagliato quando facciamo un link che è uguale a un button perché anche visivamente non so più di cosa sto parlando valerio pinna come suggerisce di approcciare le indicazioni di accessibilità tra design e sviluppo sarebbe utile collaborare ad ambole parti design e sviluppo per definire delle regole semantiche a seconda del tipo di componente utilizzato nel template o si rischia di generalizzare troppo assolutamente ragione invece bisogna creare il collante fra designer e sviluppo perché è lì in mezzo che nascono i problemi quando il designer non conosce qual è l'ambiente di sviluppo e lo sviluppatore si trova costretto ad interpretare quello che il designer ha messo senza considerare l'accessibilità lì nascono i problemi quindi chi fa designer deve conoscere l'accessibilità per guidare così chi fa sviluppo nella corretta direzione perché lo sviluppatore potrebbe non sapere cosa c'era nella testa del designer quando ha progettato un oggetto se voleva interpretarlo come link o collegamento è il designer che deve fornire allo sviluppatore le informazioni per interpretare correttamente quell'oggetto Luca Trevisan per quale motivo si è passati dalle aree tematiche agli argomenti mi riferisco alla navigazione dei siti dei comuni per quale come era la domanda per quale motivo per quale motivo si è passati dalle tra virgolette aree tematiche agli argomenti forse la dicitura nella navigazione dei siti dei comuni forse vabbè riguarda forse il design diciamo il template ma non so non so rispondere a questa domanda non so a cosa si riferisce forse c'è stato un cambio una volta si chiamava era tematico si chiama argomenti non lo so ma rimandiamo al canale Slack questa domanda magari i colleghi possono rispondere esatto ok perfetto Rosario Alagna dice i famosi concetti di by design e by default trasversali in molti ambiti e conosciuti ai più complimenti per la trattazione dell'argomento tipicamente sottovalutato da tutti gli attori coinvolti quindi più che una domanda è uno dei tanti diciamo messaggi di complimenti ricevuti oggi allora Daniela Verdino invece dice i loghi devono essere sempre parlanti questa immagino invece sia una domanda sì certamente il logo è anche qui bisogna vedere come si interpreta questa cosa a me piace pensare che su una home page di un sito internet il logo sia l'H1 nella home page perché comunque quando arrivo lì sento dire comune di Cagliari e sono contento sono certo che il mio H1 esprime l'essenza di quella prima pagina che è il comune di Cagliari adesso ho detto Cagliari ma insomma Firenze vai citiamo i nostri amici di Firenze che prima ha citato Maria Cristina però nelle pagine interne l'H1 diventa il titolo della pagina che sto visualizzando quindi il logo può perdere quel significato e diventare rimanere parlante quindi comune di Firenze ma diventare anche semplicemente un paragrafo questa è una mia interpretazione non è scritta da nessuna parte non è obbligatorio fare questo mi piace consigliare questo tipo di di interpretazione diciamo così ok Giulio Cherubini chiede è possibile realizzare il sito web a costo zero utilizzando solo gli strumenti e il modello messi a disposizione da Designers Italia anche per chi non ha grosse conoscenze di programmazione costo zero è complesso da rispondere non è il mio settore quindi non posso però costo zero significa certamente costo limitato costo umano nel senso anche se prendessi il tema se ci fosse un tema per Drupal o per WordPress il tempo di installarlo e crearlo comunque è un costo è chiaro che come si diceva giustamente prima questo tipo di supporti sono un grosso aiuto non solo a fare bene ma anche anche a usare meglio le risorse anziché reinventare ogni volta la ruota utilizzerò le risorse per fare bene per esempio i contenuti ok Eleonora Corradini dice strumenti o plug-in per browser che in fase di sviluppo ci permettano di revisionare il sito in modalità assistita sì ci sono degli strumenti automatici che permettono di fare delle verifiche rimando anche questo l'argomento che richiederebbe un seminario per la risposta però mi preme dire che circa il 50% dei criteri di successo delle WCAG non possono essere indagati da uno strumento automatico ma devono essere fatti a mano quindi è chiaro la risposta è questa ok Sara Polvirenti la difficoltà di molti cittadini sembra paradossale è sfruttare la funzione cerca in molti casi la ricerca risulta random e si fa fatica a trovare davvero quello che si cerca in che modo si può intervenire per migliorare questo problema allora la domanda è diciamo da rivolgere molto di più ai colleghi che fanno i motori per le ricerche lato accessibilità io posso rispondere in un altro modo ossia molto spesso gli utenti cercano utilizzano la ricerca perché non trovano sull'interfaccia utente quello che sperano di trovare c'è una vecchia slide che mi porto dietro ogni tanto risale a tantissimi anni fa fatto da una da una università americana quando si iniziava a parlare di contenuti che raccoglieva faceva questo esempio un'università aveva fatto lo schema diciamo così dei contenuti di pubblicare sul sito e poi hanno fatto la ricerca di quello che volevano gli utenti l'unico match era il logo quindi molto spesso noi cosa facciamo nonostante i template a volte mettiamo nei nostri template troppa roba troppissimi contenuti questo è disorientante e gli utenti si affidano alla ricerca se poi la ricerca non è efficiente succedono le cose che succedono qualche volta ho fatto degli esperimenti per esempio su un sito non mi ricordo quale in home page c'erano tipo 280 link voi vi immaginate una persona che deve spazzolarsi 280 link prima di scoprire quello che cercava diventa un'operazione veramente molto molto complicata e quindi le persone si affidano al motore di ricerca anzi le persone escono dal sito e lo chiedono a google e poi ci tornano dentro la pagina interna che google gentilmente ci ha tracciato questa esperienza utente purtroppo è comune lato accessibilità non voglio rubare mestieri ai colleghi però lato accessibilità mi interessa che l'esperienza che viene fornita in fase di ricerca sia efficace e le interfacce utenti siano comprensibili questo si che riguarda l'accessibilità e anche l'usabilità ok allora grazie mille ovviamente grazie ad entrambi i relatori perché sono stati molto molto chiari e anche molto stimolanti visto l'innumerevoli numero di domande vi ricordo che per le domande in evase sia del primo intervento che quelle che stanno arrivando adesso per quest'ultimo intervento visti i tempi ci riserviamo di rimandarvi per alcune ai prossimi webinar che tratteranno comunque altre tematiche ancora nello specifico e vi verranno anche fornite diciamo delle risposte nella community slack di cui abbiamo messo il link adesso nel ringraziare tutti voglio dare la parola a Stelio Pagnotta di Aged per delle brevi conclusioni e poi ci rivediamo per i saluti spero non ti sentiamo non ti sentiamo ok allora ci sono dei problemi tecnici per Stelio allora approfitto per ringraziare tutti voi che avete partecipato numerosi per i relatori ringraziare i relatori di oggi le colleghe che si sono occupate della parte tecnica Michela Gabrielli del dipartimento per la trasformazione digitale che ci ha seguito come al solito con Solerzia vi richiamo di nuovo la possibilità di scambiarvi informazioni e esperienze nella comunità di Slack e vi do appuntamento al prossimo martedì 23 novembre sempre dalle 14.30 alle 16.30 per sviluppare insieme il tema altrettanto interessante dell'architettura informativa i contenuti e l'interfaccia utente del sito web di un comune quindi come vedete andiamo ancora più nell'approfondire argomenti tecnici quindi molte delle vostre domande avranno una risposta negli interventi futuri grazie ancora a tutti e ci vediamo la prossima settimana grazie grazie